Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Nico. Oggi andremo su Minecraft e faremo una casa di... come si chiama? Una casa di... come si chiama? Quella cosa, quel materiale, o come si chiama? Raga, io mi dimentico sempre. Una casa di terracotta, di terra. E come si chiama, dai. Di... di... Cioè, raga, di Lana. Una casa di Lana. Io non so perché non mi dimentico sempre il nome Lana. Raga, no, no. Non andare troppo in fondo, Ender Pearl. Dove? Dove è andata a finire? Beh. Speriamo che non ci terli trasporti. di unico qui, raga, benissimo. Scegliamo qui su. Wow, raga, abbiamo scoperto che le Ender Pearl possono anche essere pericolose. Allora. Ma... Ma cos'è sta roba? A volte devo sempre... No, raga, la neve cade sulla mia statua. Oggi volevamo fare una... una casa di... come si chiama quel materiale? Di Lana, raga. Non fate attenzione che... Sbaglio il nome. Allora, la faremo di Lana... La faremo di Lana Blu. Sì. Proprio così. Gia. Cos'è sta roba? Di Lana Blu. Allora, qui abbiamo la Lana Blu. Ci teniamo le Ender Pearl. E, ovviamente, le... una porta. Questo qui potrebbe andare bene, dai. La faremo spaziosa. Però, cioè... Guardate il Beef Boss con la neve. È troppo bello. Poi questi qui si spengono. Spero proprio di no. Quell'acqua si dovrebbe... No, non si ghiaccia l'acqua. Su Minecraft. Però, la mia navicella spaziale sì che si ghiaccia. Si ghiaccia tutto, raga. Io... Non so, ma... Oggi andremo a costruirla. Dove la costruiremo, sta casa? Lì, la costruiamo lì. Non proprio qui. Lì da qualche parte. Qui abbiamo trovato questa decorazione, raga. Guardate, è soft. È bellissima. Dove ci met... La facciamo qui, dai. Ora cammino con le Ender Pearl e basta. Ok, la faremo qui, accanto alla casa del Nabbu. Ora dovrò fare una cosa. Ecco che cosa. Fare la distruzione totale. E mori. E anche tu, è anche tu. Anche tu, eh. Anche tuo fratello ha fatto la stessa fine. Anche tu. Ecco fatto. Non ha fatto un bel niente. Non vi preoccupate. Allora, la facciamo tipo come la casa da Newb. Così, 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 così. Sì, più che altro come la casa Newb. Un, due, tre. Rompiamo. Mettiamo qui, questa porta qui. Sì. E poi lo alziamo qua, di qua. Lo facciamo, lo alziamo di quattro. Oggi non voglio stoppare il video per alzarlo di quattro. Ma voglio farlo insieme a voi. Anche se potrebbe essere noioso. Ma, comunque, oggi lo voglio fare insieme a voi. Un, due, tre, quattro. Comunque, io di solito, quando sono da solo, non lo faccio così. Però io volevo farli, tipo, una forma un po' strana. Tipo così. Così, 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 così. Sì, dai, così. Questa, questa forma mi piace, dai. Non è male. Non è troppo male. No, dai, buona, buona, buona. Sì, perché c'è un livello qui. Vabbè, non ci facciamo domande. Sì, sì, voglio prendere questo livellino. Sì, 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 ho capito. Ok. Poi alzo tutto di quattro e qui devo stoppare. Ora facciamo il tetto. Lo faremo normale. Così. E poi dovremmo fare, faremo una, una, faremo un pavimento di erba, di erba di prato. Di, di, del, del, di, del, delle foglie. Ok. Entriamo qua dentro. Oh, quanto è buio, eh. Qui ci andrebbero messe delle torce. Ok. Facciamo così, che è bello. Poi qui facciamo così. E mettiamo questo bel pavimento di questo. Od è più bello questo? Dai, più bello così. Più bello. Mi piace di più. Sì, raga, a volte... Wow, bello. Oh, vabbè. Non è successo niente. Ok. Ah, sì, sul... Su quello non si può piazzare. Quindi noi faremo così. E lo piazzeremo qua sopra. Che ci vuoi fare? Ok. Era questa? Sì, erano queste. Erano queste. Erano queste. Ok. Il pavimento è completo. Ora basta fare il giardino. Ora basta fare il giardino. Una specie di... Di decorazione bella. Delle... Delle... Oppure facciamoci anche qualche perlina di slime che ci era piaciuta. Vicino. Buon'idea, eh. Scusate, enderpearl. Eh, raga... Eh, sono le enderpearl. Ok. Le facciamo qui intorno. Una qui. Così. 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 Sì, molto così. Così. Ricordatevi di fare... Di fare l'errore che ho fatto io. Sì, raga, a volte è impossibile. Raga, è impossibile. Vabbè. Faremo... Faremo qualcosa. Sì, raga, vabbè. Raga, vabbè. Romperò questi due... Questi blocchi. Poi li rimetto. Ok. Ora rimetto i blocchi. Credibile. Fatto anche questo. Facemmone un altro po'. Ok. Ho fatto. Le ho messe tutte così. E mi sembra che dovrebbero bastare. Sì, sono... È bello. Però... Basta così. Ciao, ciao. E ci vediamo in un prossimo video. Sì. Però tu togli la tua neve. Poi... Poi spalle... Ah. Nuovo modo per spaccare la neve. Sì, ho sbagliato. Vabbè, raga. Vabbè, vabbè. Quel blocco non andava nemmeno bene. Lo volevo togliere, vero? Sì, lo volevo togliere. Allora, raga... Allora, raga... Eh... Toglierò la neve a questo buffone e ci vediamo dopo. Ciao.